e ora voi uscendo da questo collegio vi troverete di fronte come del resto avete studiato a due concezioni della realtà quella cattolica e quella marxista è inutile fare misteri la realtà europea è questa qui divisa in due parti non voglio dirvi sarà a voi scegliere perché voi essendo borghesi avete già scelto aggiungo però un discorso del tutto privato qualsiasi sia la vostra posizione nella vita essa deve essere prima di tutto una responsabilità morale cosa significa significa che la storia degli uomini ciò che ha portato l'uomo fino a questo punto è sempre stato frutto di una scelta morale di un impulso del cuore insomma la pura ragione il razionalismo freddo algebrico matematico non è la storia perché la storia umana è un'aspirazione cosciente al bene è un atto d'amore che abbraccia l'umanità questa è la vera educazione questa è la civiltà questo è il soffio dell'alto vento della cultura questa è la libertà è un atto d'amore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti